Avrai sentito parlare del messaggio come riempire le aziende dei tuoi commerciali. Bene, allora oggi parliamo proprio di questo, perché questo è quello che io faccio sulle mie aziende da oltre 5 anni, ma chiaramente è una delle cose più importanti per la crescita aziendale. Quindi ti spiego quali sono gli errori da non commettere e come veramente riempire le aziende dei commerciali. Ciao, se non mi conosci, io sono Alessandro Ventivoglio. Non ho niente da venderti, perché il mio obiettivo è investire sulle aziende che vogliono veramente crescere e portarle, come ho già fatto con altre aziende, con altri miei partner, a fatturare oltre 10 milioni di euro investendo con il mio team di marketing e vendite. Allora, vediamo che la crescita aziendale passa da quelli che sono gli appuntamenti di vendita che ha la nostra rete commerciale. Quindi il messaggio come riempire le aziende dei tuoi commerciali è veramente accattivante. Ma qual è veramente l'elemento chiave nella crescita aziendale? Non è solo riempire le aziende dei commerciali, ma è anche il mindset dell'imprenditore. Perché vi racconto questa storia, allora viene da me questa persona amiciale, io guarda voglio fare come fai tu, insomma riempire le aziende dei commerciali, ho interesse in questo perché sono un po' scarichi e così via. Ah, beh, però io non voglio fare niente, fai tutto tu, io non voglio sapere niente, insomma mi porti gli appuntamenti. Ecco, questo è, diciamo, gli ho detto, è il problema più grande. Non puoi pensare di delegare la responsabilità della tua azienda all'esterno, perché se non te ne preoccupi tu, perché se ne dovrebbe occupare qualcun altro? Ecco, questa è la cosa che mi fa, diciamo, incaurare di più, no? Perché oggi l'imprenditore dice, ah, delego, pago e delego. Ma questa cosa qua non funziona, ragazzi, se non vi assumete voi la responsabilità della vostra azienda, non vedo per quale motivo se la dovrebbe assumere qualcun altro anche a fronte di un pagamento, ok? Perché l'azienda rimane sempre la vostra, ok? Quindi la stessa cosa faccio io, se voglio far crescere la mia azienda, mi devo occupare di studiare, di capire come fare e non delegare, basta. Comunque lavorare insieme, quello che faccio anch'io è lavorare con l'imprenditore, perché se l'imprenditore mi dice, no, fai tutto tu, io non voglio sapere niente, io dico, guarda, mi dispiace, ma non possiamo lavorare insieme. Allora, quali sono le due cose chiave per aumentare le prestazioni dei commerciali e far sì che abbiano le agende piene? Allora, numero uno, bisogna capire che il commerciale ha un lavoro specialistico, ok? Fa un lavoro di qualità, un lavoro per il quale servono delle competenze, servono delle conoscenze, deve conoscere bene comunque l'azienda, il cliente prima di tutto, i problemi che ha il nostro target e quindi è un lavoro di qualità, un lavoro specialistico, vi lo chiamo, ok? Quindi se noi vogliamo ottimizzare le prestazioni dei commerciali, la prima cosa che dobbiamo fare è pulirli da tutte quelle attività che gli portano via tempo e che non sono produttive, quindi aiutare il commerciale ad avere una gestione migliore del proprio tempo. Questo ci permetterà di far sì che il commerciale si focalizzi solo sulle attività produttive, sulle attività ad alta produzione, ok? E non su attività perdita di tempo. Come lo facciamo? Io l'ho fatto in questo modo. Ho preso il commerciale, ho iniziato a dire, ok, quali sono le attività che fai durante il giorno? Bene, questa è importante, questa la puoi fare solo tu, questa la possiamo delegare. Quindi ho creato un team di supporto al team commerciale. Io lo chiamo il team di setting, quindi ho creato un team interno che tra l'altro offro anche come servizio all'esterno ai miei clienti proprio perché l'attività di setting, di fissare gli appuntamenti per i commerciali è un'attività di chiamate su tutti i leader che provengono dal marketing. Molto spesso questi leader non sono in target, non rispondono, non sono qualificati. E quindi se lo facciamo fare ai commerciali, perdono una marea di tempo. Il nostro obiettivo è mettere il commerciale con persone qualificate sedute a fare degli appuntamenti di vendita. Fine della storia. Se riusciamo ad ottenere questo, allora chiaramente le loro prestazioni aumenteranno di base. Quindi il team setting è un team di persone che magari sono entrate da poco in azienda, sono persone più giovani all'interno dell'azienda, che devono solo qualificare, fare delle domande e dire, sì, ok, lo metto in appuntamento oppure no. Ok? E chiaramente anche qui c'è una gestione importante da fare. Serve chiaramente una persona, un coordinatore del dipartimento, servono delle figure e quindi servono poi dopo gli script, una strategia e così via. E quindi ho costruito tutto questo dipartimento per aiutare i commerciali. Step numero due è quello di chiarire al commerciale quali sono i suoi canali di acquisizione, dei contatti. Ok? Quindi fondamentalmente oggi se il commerciale si siede lì e aspetta, ha una gestione passiva. Mentre quello che deve fare il mio commerciale deve essere una gestione attiva. Cioè, ok, io ho una serie di appuntamenti fissati e mi sta bene, perché qui ti aiuto a gestire il tempo e lavori solo con persone di qualità. Ma dall'altra parte tu devi essere attivo anche nella generazione di nuovi lead. Quindi cosa significa? Devo trovare degli altri canali. Quindi il primo canale magari è l'inbound marketing, quindi i lead che mi arrivano dal dipartimento setting fissati in automatico. Ma poi io devo, come in qualità di commerciale, farmi venire altre idee. Allora, numero uno, andare a contattare clienti passati o acquisizioni. L'appuntamento di vendita per me si chiama acquisizione, che è che mi metto lì per acquisire un cliente. Quindi avere uno storico di acquisizioni che non sono andate in porto da ricontattare periodicamente nel tempo. Questo si chiama re-lead, risollevare dei contatti delle persone con cui ho parlato. Numero uno. Numero due, parlare con clienti, cioè risollevare clienti passati e quindi vedere se magari ha senso portarli di nuovo con noi. Numero tre, upsell. Quindi gestire e monitorare tutti quei clienti che sono pronti alla scadenza per dirgli come va, seguire i clienti, insomma gestirli, creare questa relazione duratura nel tempo. Numero quattro, stimolare i referral. Quindi ad ogni step, ad ogni momento in cui il cliente lavora con noi, è contento e così via, creare queste possibilità di dire ok, hai altre persone che possono essere interessate a noi e quindi a quello che io ho da offrirti, hai qualche contatto da darmi e così via. Quindi stimolare anche i referral. Ok, a questo punto il commerciale non avrà solo, capito, sto lì, aspetto che mi arrivano i lead, perché questa è una cosa terribile. La gestione è passiva, ok? Il commerciale deve essere attivo. Altra cosa che può fare il commerciale è, diciamo, partecipare degli eventi, chiaramente, fare magari outbound, perché a quel punto anche lui può diventare una parte attiva di lead generation. Magari su aziende o su clienti, chiaramente in base alla tipologia di servizio, insomma, che ha l'azienda, selezionare delle strategie e capire qual è il target di riferimento e quindi mandare dei messaggi, utilizzare anche strumenti come i social, LinkedIn, per fare queste attività. Solo grazie a queste strategie il commerciale avrà l'agenda veramente piena, ok? Non ci si può basare su un solo canale. Questo vale per il marketing, per l'advertising, ma vale anche per i commerciali. Il commerciale deve avere, come dire, diverse fonti, diversi canali di appuntamenti che siano magari organizzati da qualcun altro, ma anche organizzati da lui stesso per permettersi di avere l'agenda piena. Se ti è piaciuto questo contenuto, iscriviti al mio canale e per qualsiasi altra informazione trovi il link qui in descrizione per eventualmente fare una chiacchiera e discutere un po' su di quella che può essere la crescita della tua azienda. Grazie a tutti.